Escono gli ultimi led, tutto pronto, si aprono le gabbie, partiti i cavalli della quinta corsa Brutta partenza per Dilo Hall che ha preso anche un paio di cavallate, comunque lì a contatto, veloce dall'interno e proprio pettirosso con la giubba gialla e blu al cui esterno si profila subito Fuerteventura con la giubba nera, veloce anche Hubris, più al centro della pista c'è Selfie Stick seconda linea formata da Mr. Diamond, Sole Di Pio, Summer Paradise, Clonet ancora più al suo esterno c'è Sharara poi set celebre, più dietro troviamo ancora Dilo Hall, ancora anche Time Last che invece va per corsie più interne più di metà gara che se n'è andata così con pettirosso ancora in vantaggio, Clonet che forza un varco e prova a proporsi subito minaccioso Hubris ancora in quota insieme a Fuerteventura, poi Sharara più al centro della pista, dal centro della pista è proprio il duello che si profila tra Sharara e Clonet in questo momento, più allo steccato opposto troviamo anche set celebre, Sole Di Pio 4 cavalli almeno su di una linea con set celebre che fa lo scatto su Sharara e Clonet, questi tre che si staccano in lotta con set celebre, set celebre che la chiude lì e vince nei confronti di Clonet e Dilo Hall set celebre dunque con Alessio Satta in sella, 9,47 la sua quota il training è quello di Massimo Scoccione, i colori sono quelli di Antonio Angelelli, ottimo peso per il Sauro da paint celebre, di per sé atipico sul tema della pista dritta, al secondo posto il favorito Clonet per il terzo Dilo Hall al quarto Sharara, numericamente 7,1,9 è l'ordine d'arrivo ufficioso della quinta corsa per set celebre si tratta della settima affermazione, in 46 uscite, riapprezziamo di nuovo il frontale e lo scatto poderoso grazie al quale set celebre li ha messi tutti nel sacco andiamo a ricordare l'ordine d'arrivo numerico ufficioso per la seconda trist della giornata 7,1,9 è tutto da Capannelle 8,1,9 è tutto da Capannelle Grazie.